C'è la TV, già esisteva, erede di provincia TV, adesso con il canale tutto su 815 ci mettiamo a disposizione il nostro territorio come già stanno i tanti che collaborano. Ormai con i social network e internet siamo costretti ad essere in diretta e lo facciamo con piacere, circa 10 ore e 30 di diretta al giorno, tutti i giorni, che è a disposizione del nostro territorio che per tanti motivi spesso viene tralasciato perché comunque gli intenti locali hanno sempre puntato su Roma, gli intenti locali sto parlando naturalmente con i regionali, invece grazie all'impegno di una senata che suggerisce la strumentaria della conversione carici anche il nostro territorio alla sua televisione e anche al Miniere già da adesso e tra poco Montalto e Tarquinia avranno un'imittente locale che riguarda proprio quei comuni e non solamente Roma. Questo è il nostro obiettivo, con il contributo di tutti i cittadini che vorranno seguirci riusciremo a portare a terra.